Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando. Buonasera a tutti amici di Volonbrite, siamo qui ospiti in Piazza d'Armi ai Dialoghi sulla Salute 2018. Siamo in compagnia del dottor Davide Cocirio, amministratore delegato di Farmacie Comunali Torino e all'avvocato Michela Coppo, presidente di Farmacie Comunali Torino. Allora, cominciamo con la prima domanda. Perché è importante portare il vostro servizio all'interno di una cornice del genere, cioè i Dialoghi della Salute? Grazie mille per la domanda. Allora, diciamo che noi, un po' per carattere personale e per l'impegno che la professionalità del farmacista porta quotidianamente, siamo più abituati a fare le cose piuttosto che non a comunicarle. Proprio per questo motivo, divulgando il servizio esclusivamente nelle farmacie, rischiamo di limitare il parterre delle persone che si possono avvicinare all'iniziativa. Per questo motivo abbiamo ritenuto che presentare questo tipo di iniziativa assolutamente efficace, in quanto migliora gli stili di vita e quindi favorisce la prevenzione di parecchi disturbi che possono insorgere in una vita sedentaria. Quindi riteniamo questo contesto un ottimo elemento per ampliare il numero di persone che possono approcciarsi a questa iniziativa che abbiamo fortemente voluto. Grazie mille. Se ha qualcosa da aggiungere... Allora, cominciamo da lei per la seconda domanda. Che cosa fa lei per la sua salute? Allora, inizialmente faccio tanto sport. Faccio tanto sport, seguo una dieta equilibrata e cerco di fare degli esami di prevenzione quotidiana, no, però annuali in modo da, anche se non ho timori di patologie, però ritengo che la prevenzione sia assolutamente fondamentale. E invece lei? Sì, diciamo che le cose importanti da fare, che cerco in prima persona di mettere in pratica, sono sicuramente quello di favorire il movimento, perché come è venuto fuori, grazie alle interviste che sono state fatte stasera, il movimento è il primo veramente fattore che migliora lo stato di salute e lo stato fisico delle persone. Io personalmente gioco a tennis due volte a settimana, fisse, e cerco di muovermi a piedi tutto dove posso e dove riesco, ovvio per le distanze compatibili con questo tipo di movimento. Oltre a ciò, sicuramente, essendo la prevenzione la cosa fondamentale per stare in salute a lungo nel tempo, gli screening fatti con intervalli regolari sono la cosa più importante. Ovviamente nelle persone giovani è considerato intervallo regolare, anche se uno fa un check-up di massima ogni sei anni, è più che sufficiente, andando avanti con l'età, un controllo biennale per la fase dell'adulto e poi annuale, nella fase in cui ci si approccia un po' più all'anzianità, è fondamentale per poter intercettare in maniera rapida e quindi poter intervenire in maniera più efficace qualsiasi patologia che possa insorgere. La ringrazio, ringrazio anche l'avvocato e buona salute a tutti.